Musica Potente a parla ragazzi, è qua Vax, l'ho giugno di Gato e sono da sole e sono qui a presentarvi su un nuovo video Che ragazzi è un nuovo video stratattico perché infatti io volevo appunto farvi un nuovo pink pale Appunto dopo il mio ritorno abbastanza buono, abbastanza potente con un forte giocatore E infatti oggi appunto chiedendogli anche sulla pagina facebook ho deciso di andare a pink palare questa blestia Special, close, email of the match valutato 90 Ma andiamo in un attimo a delle statistiche 90 di velocità, 93 di tiro, 78 di passaggio, 94 di dribbling che ha solo 2 stelle d'abilità e 99 colpo di testa Quindi giocatore veramente fenomenale Comunque per iniziare volevo ricordare passare da FIFA con gli stessi che è interessante comprare i piedi di FIFA E poi volevo anche fare una piccola precisazione riguardo al video di ieri Il video di ieri era proprio un vlog veloce veloce come video d'aggiornamento E dato che non potevo utilizzare né la webcam né la GoPro ho deciso di utilizzare il telefono Solamente dovevo metterlo sul ripiano e per farlo stare in piedi dovevo metterlo un po' altruinato Ecco perché c'è stato quello inquadratura Quello inquadratura Quello inquadratura Non è neanche un video così importante Quindi sono anche Sto abbastanza dispiaciuto per dei commenti coletti Comunque vabbè Spieghiamo di recuperare con questo video Che infatti Con cui Qua infatti Spero di raggiungere i 4 milioni di viaggi Perché voglio proprio un ritorno con i botti Poi comunque adesso ritornerò a fare video sempre più spesso Comunque vale il senso Non mi sembra avere altro da dire Come vedete Sempre il solito post da twittare E spiegare specialmente Non ho mai scelto di 2x1 Andiamo a pubblicare e aspettiamo I inviti Ah si non so se l'ho detto E close ovviamente qua E non l'utilizzerò in questa squadra Perché come avevo detto nel mio squad builder Questa squadra mi piace un macello E voglio provarla Anche appunto in un pink pile E poi come sempre Vi volevo ringraziare per tutto il supporto Che mi sta dando Ma soprattutto per il raggiungimento Dei 71.000 iscritti Gli inviti stanno arrivando Quindi io senza guardare Accetterei questa persona qua E vediamo un po' Quale sarà il nostro sfidante Di questo mio nuovo pink pile JQ Kev Quindi andiamo ad invitare JQ Kev Eccolo qua JQ Kev è arrivato E andiamo a giocare allora E andiamo a giocare La tensione è stra alta Anche perché E' da un macello Che non faccio un pink pile E' da un macello Che non gioco Ho fatto prima due partite Le ho perse come sempre Entrambe E andiamo a ridere la squadra 4-3-2-1 Della Germania Della Bundesliga Con Manjovic Kevin Debrouin Ames 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 Mi scatta tutti James Ames Rodriguez Al decimo minuto Firman 3 a 1 Ma Cioè no 4 minuti In dieci No In 4 minuti In dieci 4 con In dieci È una cosa Un po' Difficile Da fare Madonna Iva Nello spazio Per Matuidi 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 L'andrà a mettere In mezzo Dove si è Malapa Goal 4 a 1 Il diciannovesimo Se sto giocando Ma Cioè Sto diventando Quasi più forte Di quanto ero prima Solo in una partita In 20 minuti E 4 a 2 Mamma mia Ames Ma in fascia La mette Dove c'è Ibra Che di testa Firma Il 5 a 2 Il 26esimo 5 gol Mi hai in 26 minuti Mai visti Cioè Meglio del No Lui ha preso Più gol Non lo so Quanti gol ha preso Il Milan 5 dal City Ah no 4 in poco tempo Ho visto Perché io ero Comunque in volo Quindi Non ho avuto Tempo per Vederla Però Hanno preso Una caterva In pochi minuti Useremo Il nostro schema Palla per Ibra Boom 6 a 2 Ibra Imovi c'è Ancora Buono Grande Dai Oh mio dio Ragazzi Mi sono Ho appena notato Non mi ha fatto il post Eh vabbè No Devo uscire Che palle No Non me l'ha scritto Che palle No Non è vero Non dovevo Rifarlo Ma ho scritto E ragazzi Cosa era successo In poche parole Molti di voi O meglio Alcuni di voi Dicevano Che appunto Non si vedeva Il mio post Meglio che io Non l'avevo fatto Addirittura Sulla pagina Facebook E quindi ho detto Andiamo a controllare All'inizio Non mi si vedeva Anche a me E quindi io sono uscito Dalla partita Però poi appunto Si vedeva Ciò cosa ha comportato Ho comportato Che io il post L'avevo fatto Questo appunto JQ Kev Mi aveva invitato Perché appunto Aveva visto il post E quindi andiamo A terminare la partita Con JQ Kev Ecco qua ragazzi Si è fatto i 6 gol Io mi sono fatti i 2 E ora Riniziamo a giocare Malapa Vedi Ivra Ivra con le skill Ivra Ivra avanza Ivra avanza Boom No Malapa 7 a 2 Vabbè Non posso dire più Al dodicesimo Però 7 a 2 Grande Daniel Peniel Non mi ricordo più il nome Non su calcio d'angolo Non su calcio d'angolo Non su calcio d'angolo 7 a 3 Mamma mia Ah Mesfro Briguez Che acquistone Che ha fatto il real Ragazzi Per me Ivra vede malapa Madonna che palla Che palla Per Malapa Ma no Ha sbagliato Grandissimo De Sten Palla per Ivra Ibla Ibla Ibrahimovic Oddio Come l'ha saltato Come l'ha saltato 8 a 3 Oddio Tutti lui quasi Me li ha fatti Me la paro Potete scriverlo Ma no E sale il rigore parato Vabbè Oh guardessi No Sì No No 8 a 5 Oh attenzione Attenzione Malapa 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 Boom 6 a 8 9 a 5 Non mi ricordavo neanche più il risultato Malapa Ancora Ivra Ivra Ibrahimovic Zlatanillo No 10 Doppia cifra 10 a 5 Doppia cifra Dai No 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 6 a 10 Signori Quanti gol Boia 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 Grande Oh guarda una bestia E' una bestia E' una bestia straforte Die E' infinita ragazzi 10 a 6 Il risultato Incredibile Però abbiamo vinto Quindi ci teniamo il nostro close In man of the match E ragazzi Voi Adesso entrate in gioco voi Dovete farmi sapere Che altri giocatori Vorreste che io Pink Palace Nei prossimi Pink Palace Ma soprattutto Che altri tipi di video Vorreste vedere Come vedete Se stupletta di Neuer Che cosa abbastanza statica Comunque quindi Iscrivetevi nei commenti Che tipo di video Vorreste vedere E anche che video Di che serie E poi Mi raccomando Lasciate un mi piace Facciamo arrivare a questo Buon video A 4.000 di piaccia Per il vostro Pink Palace Quindi detto questo Io vi saluto E vi dico potente A palazzo Nel prossimo video Bola